dai dai il terzo è buono dai gas dai stai dai la roba di metallo levatela stardo c'è tutto qua si sei buono perché non sta? ma c'è la benzina? si mi sembra che vada un po' dai specie guarda che i motori così a tiro attenzione il gomito mio dov'è che gli ho spuzzi lo spray? sul davanti? no sul sopra perché sopra c'è la presa d'aria siete bui tutte e due più forte più forte guarda la ginnastica prima della grigliata sta avvicinando tanto sta prendendo fuoco tutto il barbecue perché questa roba cos'è? adesso esplode ma dov'è la presa d'aria? ma ti non è la benzina così ha più ottani eh? ma io l'ho fatto all'albero cos'è? nooo stai facendo un filmato oppure? si si filmato dai verso il massimo dai verso il massimo vai pistas hai tutto il prato che è tuo nooo 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 ho scacciato questo dai vabbè il canto è a partire buuuu vabbè sta su spatti io l'ho messo in max eh max così? se non c'è la benzina non esce più fu eh si mi ha già finito la benzina c'aveva al pieno nooo non fuma più è un brutto vizio ma che non va a sto acceleratore aspetta questo dovrebbe stare al massimo si mi sono rotto i coglioni mi sono rotto i coglioni se gli do fuoco io ci cago solo su sta cazzo di macchina guarda guarda adesso ci vediamo ma quest'ora non si vede niente eh infatti ah ah porca hai bastardo ma non hai già cambiato la fardella si ma è partito se vuoi fermare bastardo pizzeri pizzeri hai girato sta roba qua c'è la chiave non è che c'è da girare eh si devo regassare chiudi il coperchio così non fa più la fiamma no 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 così mi fonde la la maniglia è morto ma a chiave che cazzo serve eh boh io ho però girato mettila in start max dai 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 pezzo di donna madonna la madre no 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 mi hai messo max? eh aspetta lo so per aspetta lo lo so per io! lo so perete su pati alzalo tini alzalo teni no no su stag non paghe su stag? no provo la su stag no ma su dove si ma pezzo di merda ma hai filmato? si venisse la dia che era doleee no adesso ci prova pure il gutta scusa eh guarda il gutta che cazzo fa cioè pensa da fuoco a tutto piuttosto che accende sta merda di resa a verde una merda se la verde va bene te lo posso dire la forza c'è da tenere tirato eh prova muovi dai che cazzo hai fatto? eh si cazzo adesso adesso non voglio sforzare per non rompere il filo però è abbastanza duro cioè potete tirare la sede ok forse è meglio lasciare così si missione fallita con la prossima volta? eh si fallo un cavo è tutto bloccato all'inizio oh per merda no no è bloccato qua eh vabbè cin cin è la fine del video questa basta off come si offa? gut come si offa questo? c'ho troppa potenza come si offa il video? questo qua cosa fa secondo te? no cazzo questo qua cosa fa? per farlo andare avanti ho capito ma eh questo qui è proprio bloccato qua buon buon ciao bello è stato bello finché è durato chi è che lo riporta cos'altro? questo cos'altro wooh navigatamente